Nell'ambito della nota vicenda giudiziaria relativa alla piscina olimpionica, si legge nel comunicato stampa dell'avvocato difensore di Ugo Pugliese, Francesco Laratta, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese è stato appunto ascoltato in sede di interrogatorio di garanzia dal GIP del Tribunale di Crotone, Michele Ciociola, nel pomeriggio dell'11 novembre. Il giudice ha formulato tutta una serie di domande alle quali il primo cittadino ha risposto dando non solo la sua versione dei fatti, ma ha chiarito il perché di tutta una serie di atti amministrativi posti in essere dalla sua amministrazione. Alla fine dell'interrogatorio il sindaco pugliese ha espresso al giudice la sua volontà di dimettersi dalla carica del primo cittadino per poter essere libero di difendersi nel processo e per dimostrare a tutti in maniera inequivocabile di essere estraneo a tutti i fatti contestati e di non essere assolutamente ancorato ad alcun incarico o poltrona. Ha però chiesto al giudice, continua il comunicato, di potersi dimettere da sindaco in carica e non già da sindaco sospeso. Il dottor Ciociola ha immediatamente raccolto il parere favorevole del PM alla revoca della misura imposta ed in calcia al verbale ha subito revocato la misura dell'obbligo di dimora. Dunque il sindaco di Crotone ha quindi avuto la possibilità di rientrare nella sua città e all'affetto dei suoi cari. Pertanto l'ufficio Dicos di Crotone ha comunicato nel più breve lasso di tempo alla competente prefettura l'avvenuta revoca della misura così da concedere al prefetto di attivare la procedura di reintegro nella carica prevista dall'articolo 11 della legge Severino. Questo appunto il comunicato dell'avvocato Francesco Laratta al quale si è aggiunto parallelamente il comunicato stampa dell'avvocato Alberto Laratta nel quale lo stesso ha ribadito di aver trasmesso al presidente del consiglio comunale di Crotone Serafino Mauro le sue irrevocabili dimissioni da consigliere comunale. Lo studio legale del quale si onora di far parte assiste infatti il sindaco della città di Crotone nella nota vicenda afferente alla piscina olimpionica e dunque questa situazione potrebbe portare a un'eventuale posizione potenziale di incompatibilità. Incompatibilità eliminata dunque in radice con questa scelta dell'avvocato Laratta appunto di dimettersi. Non è stata una decisione facile, continua nel comunicato, ma nella vita bisogna avere il coraggio di prendere le giuste decisioni al momento opportuno e questo momento è raggiunto.